Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto particolare. Quest'oggi volevo parlarvi di un tema molto scottante che è apparso negli ultimi giorni, ossia della possibilità che in Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee arrivino nuove mega evoluzioni. Difatti pochi giorni fa l'utente Twitter nonché noto leaker Jinx Club avrebbe pubblicato un post nel quale avrebbe confermato la riregistrazione di vari Pokémon all'interno dei nuovi titoli. Sottolineando come l'ultima volta in cui questo è successo è stato per l'introduzione delle mega evoluzioni in Pokémon X e Y. Nonostante poi Jinx Club abbia affermato che probabilmente questi Pokémon avrebbero ricevuto solo un trattamento speciale e non una mega evoluzione all'interno dei nuovi giochi, come prevedibile all'interno della community hanno iniziato a girare le voci riguardo a una possibile introduzione di tantissime nuove mega evoluzioni all'interno di questi nuovi titoli. Benché sia chiaramente presto parlare di mega evoluzioni ho notato una certa coerenza nel post di Jinx Club e volevo mettere a nudo alcune cose che ho notato e che potrebbero essere davvero utili. Difatti i Pokémon citati da Jinx Club all'interno del suo post sono Starmy, Golem, Raichu, Jinx, Hitmonchan, Hitmonlee, Arbok, Wheezing, Persian, Vaporeon, Jolteon, Flareon e Dragonite. Come già detto è presto e forse è azzardato parlare di mega evoluzioni per tutti questi Pokémon anche perché vedendo come alcune mega andrebbero ad abbinarsi a delle forme a Lola o come solo tre delle otto evoluzioni di Eevee potrebbero ottenere la mega qualche dubbio potrebbe venire ma urge fare una precisazione e notare qualcosa di molto particolare. Infatti moltissimi, quasi tutti i Pokémon citati da Jinx Club sarebbero abbinabili ad un capopalestra che noi conosciamo della regione di Kanto. Golem sarebbe associabile a Brock, Starmy sarebbe associabile a Misty, Raichu, Hitzerge, Wheezing con Koga, Persian con Giovanni e poi passando i Super 4 Jinx sarebbe associabile con Lorelei, Machamp con Bruno e Dragonite con Lance. A questo punto non sarebbe difficile immaginare che Mega Gengar sarebbe associato ad Agatha mentre Alakazam affibbiato a una Sabrina, entrambi Pokémon con mega evoluzione. Peraltro con le ipotetiche mega evoluzioni di Golem e Machamp si andrebbe a chiudere quel quartetto di Pokémon ottenibili tramite scambio in prima generazione tutti con la mega evoluzione che aveva auspicato già ai tempi di Ultrasole e Ultraluna. Flareon, Jolteon, Vaporeon e Raichu sarebbero inoltre le mega evoluzioni delle evoluzioni degli starter di questi giochi che per quanto probabilmente non si possano evolvere sarebbero in linea con l'importanza che si vuole dare in Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee a questi Pokémon. Rimangono poi tagliati fuori sia Erika che Blaine ma non è difficile a mio avviso pensare a un loro riadattamento nei team che in Pokémon giallo era particolarmente a di sotto della difficoltà minima. Riadattamento che in realtà potrebbe in generale toccare tutta la regione di Kanto in vista delle meccaniche che sono state introdotte in vent'anni di storia Pokémon. Potrebbe ipotizzare ad esempio un Mega Venusaur per Erika e un Mega Charizard o più probabilmente un Mega Flareon per Blaine. Dico probabilmente perché mi piace immaginare che Mega Charizard e Mega Blastoise possano andare a completare il terzetto degli starter con le mega evoluzioni andando ad affiancare un rosso e un blu alternativi magari uno campione della Lega e l'altro capopalestra di Smeraldopoli o permanente oppure in sostituzione a Giovanni dopo lo svolgimento della trama. Ovviamente qui stiamo entrando in delle congetture che di certo non saranno vere già lo so però mi piace la cosa. Problema! Brock non avrà mai un Mega Golem al primo incontro perché questo Pokémon sarebbe particolarmente più forte rispetto al nostro Pikachu o al nostro Levi che si presenterà lì a livello 10. È quindi verosimile che queste mega evoluzioni possano essere utilizzate dai cavopalestra in degli ipotetici rematch finita la Lega. Un po' in Steelert Gold e Soul Silver nella seconda generazione o meglio nei remake della seconda generazione come peraltro abbiamo già visto. Se però la faccenda mega evoluzioni dovesse subentrare dopo la sconfitta della Lega si entrerebbe in un paradosso di trama. Giovanni e la sua ipotetica mega evoluzione Persian dovrebbero per forza di cose entrare all'interno della trama prima della sconfitta della Lega perché Giovanni dovrebbe fuggire una volta battuto il Team Rocket e conseguentemente il giocatore dovrebbe andare ad affrontare la Lega avendo ottenuto tutte le otto medaglie. Dunque affrontarlo in un rematch dopo che questo sarebbe dovuto fuggire in un'altra regione verosimilmente nella grotta che vediamo nell'evento di Celebi a Yoto sarebbe insensato. Qui scatta una piccola lampadina ed una congettura abbastanza campata per aria che però sarebbe davvero affascinante vedere realizzata. Possibile che in questo mondo alternativo Team Rocket possieda la capacità di mega evolvere i Pokémon o che abbia semplicemente rubato le mega pietre al resto della regione per poter monopolizzare questo potere e che conseguentemente il nostro compito sarà quello di sconfiggere il Team Rocket e riportare il potere delle mega evoluzioni alla merce di chiunque lo voglia utilizzare. Sarebbe dunque il capo del Team Rocket in uno dei suoi scontri il primo a mostrare in questa canto alternativa il potere devastante della mega evoluzione sul proprio Persian. Una volta riottenuto dalla regione il potere della mega evoluzione questo verrà utilizzato dai capi palestre, dai super 4, dai campioni e chi più ha più ne metta per affrontare i vari allenatori tra cui ovviamente il protagonista. Questo chiaramente potrebbe avvenire sia dopo la trama principale che magari iniziare subito a livello di super 4 per poi finire con il campione e poi in generale i capi palestra potrebbero seguire il loro esempio. Potrebbe sì essere questo lo scopo della trama alternativa di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee ma ovviamente ragazzi siamo nell'ambito delle congetture e per ora essendo questi dei semplici rumor non mi addentro oltre. Certo è che se così fosse o se fosse qualcosa di simile sarebbero davvero Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee Bene, credo che questo video possa concludersi qua fatemi sapere nei commenti se questa teoria vi affascina se siete d'accordo e se avete delle osservazioni particolari da fare riguardo ad essa So benissimo che mi sto muovendo in acqua incerta e questo è un semplice rumore, non c'è nulla di certo e che probabilmente io possa anche non avere ragione ma ci tenevo a mostrarvi questa mia congettura che avevo pensato e questa congruenza nei Pokémon designati per le mega evoluzioni che ho notato all'interno del tweet di Jinx Club quindi non mi rompete il cazzo Se il video in generale vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti vi invito anche a premere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno e a passare dai social per rimanere aggiornati invece su situazioni secondarie del canale Certo ciao ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!